In relazione ai recenti avvenimenti nell'ambito dei procedimenti a carico dell'onorevole Silvio Berlusconi, mi limito a richiamare quanto dichiarato ieri dal Presidente della Repubblica, il quale, cito, ha espresso il suo vivo rammarico per il riaccendersi di tensioni e contrapposizioni tra politica e giustizia, rammarico in particolare per quanto è accaduto l'altro ieri ed è sfociato in una manifestazione politica senza precedenti all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano. Fine della citazione. Aggiungo che il Capo dello Stato ha voluto incontrare sempre nella giornata di ieri il Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore con cui ha avuto un ampio scambio di vedute. Il Presidente Napolitano ha poi rilasciato una dichiarazione in cui, cito, ha indicato nel più severo controllo di legalità un imperativo assoluto per la salute della Repubblica da cui nessuno può considerarsi esonerato in virtù dell'investitura popolare ricevuta. Fine della citazione. Infine il Presidente ha rivolto un appello che faccio mio al rispetto effettivo del ruolo e della dignità tanto della magistratura quanto delle istituzioni politiche e delle forze che le rappresentano.